E' morto attorno alle 22.20 di ieri sera Monsignor Lorenzo Chianinelli, nato a Conserviano di Ocesi di Rieti il 16 marzo 1935, è stato ordinato presbitero il 15 settembre del 57, eletto alla sede Vescovile di Aquino, Sore e Ponte Corvo il 21 gennaio del 83, è stato ordinato Vescovo il 27 febbraio dello stesso anno. In seguito è trasferito prima ad Aversa il 27 marzo del 93 e poi a Viterbo il 30 giugno del 1997. E' divenuto emerito l'11 dicembre del 2010. Monsignor Chianinelli è tra i protagonisti della vita culturale del paese e un sicuro riferimento spirituale per tanti. Il Vescovo di Rieti, Domenico Pompili, esprime il proprio cordoglio manifestando la sua vicinanza ai familiari che lo hanno assistito fino alla fine e rinnovando l'invito alla preghiera. Con il Vescovo Lorenzo, dichiara Monsignor Pompili, scompare un uomo perspicace, interprete raffinato della modernità e soprattutto un credente irriducibile. La sua scomparsa è dolorosa non solo per la Chiesa ma anche per la società civile. Don Lorenzo era inoltre l'espressione della modernità perché aveva la capacità di guardare le cose, di intessere relazioni avendo il cuore, la testa e i piedi ben piantati nella vita sociale. Un insigne prelato che nel corso degli anni ha svolto innumerevoli iniziative ed assunto prestigiosi incarichi come docente in materia etica e morali fino alla guida di importanti diocesi italiane ispirando l'intero suo magistero ecclesiale alla divulgazione dei principi universali di pace, fratellanza e solidarietà umana. Questa sera il Vescovo di Rieti, Pompili, presiderà una veglia di preghiera. Le sequie saranno celebrate alle 11 di domani, 5 agosto, in piazza Cesare Battisti, nello spazio antistante alla cattedrale. Tutti i momenti liturgici saranno svolti assicurando le misure di sicurezza richieste dalla prevenzione del Covid-19. A termine della cerimonia funebri, la salma di Monsignor Chiarinelli sarà trasferita a Viterbo per la sepoltura. Grazie a tutti.